Credo assolutamente no se interpretato come difesa della vita. Non solo la Bibbia ma le costituzioni democratiche degli Stati Uniti ma anche la Costituzione italiana, l'articolo 21 prevede la difesa della salute, la salute individuale e la salute pubblica. Quindi è un dovere costituzionale tutelare la propria salute e lo Stato deve aiutare attraverso le vaccinazioni, attraverso gli strumenti che gli vengono dati nella tutela dei propri cittadini. Abbiamo avuto troppi morti, le immagini dei camion hanno fatto il giro del mondo, fortunatamente ora si parla di un modello Italia come lo è stato il modello di Israele che ha già raggiunto l'80% alla terza vaccinazione. Con la terza vaccinazione si è tutelati al 98%, con l'aiuto della vaccinazione e del Signore riprenderemo tutte le belle attività che potremo appunto costruire tutti insieme.